Io volevo fare una piccola parentesi sulla questione migranti, perché noi in Italia abbiamo una grande infrastruttura che è quella dei porti, che tutti noi lo sappiamo, però abbiamo questo problema, cioè che da noi arrivano tanti migranti e però siamo fuori dallo sviluppo per esempio dei grandi porti, della grande logistica europea. La Cina l'altro giorno ha annunciato investimenti per oltre 100 miliardi di euro sulla nuova Via della Seta, ricordiamoci che la Via della Seta coinvolgeva, la Via della Seta nei secoli scorsi coinvolgeva l'Italia e sappiamo tutti in che modo. E quindi quello secondo me è il luogo in cui andare a investire le risorse e questo lo deve fare anche Regione Lombardia, perché noi in Regione abbiamo le vie d'acqua, abbiamo i fiumi e abbiamo i porti e le infrastrutture, dobbiamo investirci. Peccato che Maroni purtroppo su questo non sente e preferisce investire 60 milioni di euro sull'autostrada Brebemi, che noi tutti abbiamo visto quanto è risultato fallimentare. E 450 milioni di euro sotto forma di garanzia, 20 milioni l'anno per la costruenda autostrada pedemontana. Allora penso che anche la politica regionale debba essere al passo coi tempi e cambiare la sua prospettiva e prendere i soldi che ci sono e metterli in quello in cui si può essere sviluppato e non in quello che è vecchio, che è ormai obsoleto.